Buongiorno a tutti, ci siamo di nuovo pronti per affrontare la seconda parte del webinar con Andrea Susa, benvenuto Andrea. Grazie. Non so se vuoi rispondere all'ultima domanda che è rimasta in evasa da Maria Luisa perché ce l'hanno buttata lì alla fine o se la lasciamo alla fine. No, rispondiamo alla fine così almeno abbiamo messo. Benissimo, allora ti cedo la parola, buona seconda parte del webinar. Grazie, allora intanto buonasera a tutti. In questa seconda parte andremo a costruire il documento di screening partendo da tutte le informazioni che abbiamo raccolto nella fase di revisione del contratto. In modo particolare il documento di screening ha una struttura stabilita dalla circolare al paragrafo 2 e nell'allegato 3. Inoltre è stato messo anche a disposizione praticamente un template per chi volesse troverà poi il link nella presentazione. La struttura praticamente è quella prevista come stiamo dicendo all'allegato 3. Essenzialmente le informazioni che vengono richieste sono informazioni generali del tipo dati principali del contratto, una descrizione sommaria dell'iniziativa e delle sue caratteristiche ma soprattutto in termini di obiettivi, un elenco di obiettivi e indicatori e l'elenco degli SLA o dei KPI applicabili. Adesso andiamo a vedere come materialmente collezionare queste informazioni. Lo faremo con due esempi specifici partendo praticamente da accordi quadro Consip. Questo proprio perché stanno avendo particolare successo, anche perché diciamo che c'è un invito molto forte all'amministrazione di aderire praticamente a questi contratti piuttosto che fare delle iniziative proprie contrattuali, meglio delle iniziative proprie di gara, quindi andremo a vedere in modo particolare nel caso di servizi digital transformation e nei casi di servizi applicativi in ottica cloud come costruire praticamente, come reperire le informazioni e costruire i documenti di screening. Noi utilizzeremo per fare questa attività essenzialmente la documentazione messa a disposizione da Consip, quindi stiamo parlando degli atti di gara e del capitolato tecnico generale. Utilizzeremo soprattutto gli indicatori di governance per rispondere anche a una delle domande che ha stata fatta precedentemente. Possono essere utilizzati gli indicatori di governance? Sì, però vedremo come. Il piano dei fabbisogni e il progetto dei fabbisogni, che sostituiranno in questo caso la progettazione della gara. Quindi andiamo a vedere come materialmente costruire il nostro documento di screening. Partiamo praticamente da un contratto, un'adesione all'8.1, in questo caso per le PA centrali, al contratto quadro relativo ai servizi digital transformation per le PA. Quindi cosa costruiamo essenzialmente? Abbiamo a disposizione la documentazione contrattuale di Consip, abbiamo a disposizione l'atto esecutivo firmato dall'amministrazione, abbiamo gli indicatori di governance compilati dall'amministrazione che è obbligatorio compilarli e allegarli al piano dei fabbisogni che l'amministrazione stessa definisce e abbiamo a disposizione il piano operativo, che in alcuni casi viene chiamato anche il progetto dei fabbisogni per quanto riguarda altre tipologie di gare strategiche, che è stato fatto a cura del fornitore in risposta al piano dei fabbisogni. Piccola premessa, un qualsiasi contratto esecutivo legato all'accordo quadro sulla digital transformation, anche se sotto soglia, rientra nelle fatti specie della circolare perché? Perché ha per forza un rilevante impatto sotto il profilo organizzativo e dei benefici eccetera, perché non possiamo dire che un contratto stipulato in questa fatti specie non rientra, anche se è solo 5 milioni, 4 milioni, 3 milioni, perché l'impatto di una strategia di trasformazione digitale ovviamente è molto alto. Quindi già rispondo a delle domande che verranno sicuramente, ma se faccio semplicemente la strategia devo comunque metterlo sotto monitoraggio? Sì, anche se la soglia in questo caso non raggiunge 10 milioni ma è più bassa. Quindi partiamo da questa documentazione contrattuale e andiamo a costruire il piano e il documento di screening. Questa è la parte generale, quali sono le informazioni da reperire? La denominazione del contratto, questa ovviamente è presa proprio dal contratto standard CONSIP, contratto esecutivo relativo all'accordo quadro eccetera eccetera. Codice del parere tecnico economico rilasciato da AGID, non applicabile. Anche su questo ogni tanto ci chiedono ma qual è il codice del parere AGID? Ora il parere viene rilasciato esclusivamente per un'iniziativa di gara sotto alcune condizioni. In caso di adessione a contratti quadro CONSIP a convenzioni, questo non è mai applicabile. Il CIG o il CIG derivato e questo viene inserito. E qui sono le strutture praticamente adibite al governo del contratto. RUP e DEC. Denominazione del fornitore, in questo caso abbiamo preso l'8.1 CONSIP della Digital Transformation, quindi l'RT Accenture, il referente del fornitore. Quindi come vedete la prima parte del documento è molto standard e molto semplice. Si tratta di scrivere quelle che sono le informazioni generali del contratto. Breve descrizione del contratto, in questo caso praticamente l'amministrazione vuole andare su, vuole fare una strategia di migrazione e quindi deve andare a identificare i possibili scenari di transizione al cloud, che può essere un PSN, che può essere praticamente un cloud dell'APA certificato e così via, minimizzando gli impatti sugli utenti esterni e interni. Quindi diciamo che la descrizione del contratto, anche qui, viene presa tranquillamente o dal contratto stesso o praticamente dal documento che il fornitore stesso vi consegna come progetto di fabbisogno. L'importo in questo caso è 5 milioni ed è sempre IVA esclusa, cioè tutta la documentazione che vi chiede il monitoraggio è sempre IVA esclusa, quindi non va inserita. La data di stipula del contratto, attenzione, data di stipula non la data di inizio attività, quella viene chiesta poi successivamente. Qui si parla proprio di data di stipula del contratto, la durata del contratto, i recapiti del responsabile del monitoraggio e qui iniziamo. Finalità dell'iniziativa e vediamo scritto dappertutto su questi documenti di screening. La finalità dell'iniziativa è un paragrafo presente sul piano dei fabbisogni e sul piano operativo, quindi si può tranquillamente copiare quello che c'è scritto là sopra, non c'è bisogno di inventare. La finalità dell'iniziativa in questo caso, quella prevista direttamente dal piano operativo, è supportare l'amministrazione nella fase di progettazione della strategia di transizione digitale con un'analisi della SIS e andando a vedere quali sono praticamente il target di riferimento finale. Quindi come vedete è una descrizione macro di quella che è l'iniziativa dal punto di vista dell'amministrazione. La durata dell'iniziativa, ecco qui attenzione, la durata dell'iniziativa non è la durata del contratto, cioè un contratto potrebbe avere praticamente più progetti o iniziative al loro interno e qui vanno indicate quelle che sono praticamente le iniziative applicate. Nei contratti quadro concept, in questo caso quelli legati alla digital transformation, ci sono una serie di servizi che devono essere per forza attivati nell'ordine in cui sono indicati. Quindi in questo caso, disegno della strategia digitale, disegno del piano strategico, disegno della mappa dei servizi e si indica la loro durata. Nei casi ad esempio di contratti per cui ci possono essere dei servizi e dei progetti, vanno indicati, se ha senso ovviamente, la durata dei singoli servizi e progetti. Se c'è un servizio che è continuativo, che durerà per tutta la durata del contratto, ovviamente si mette la durata del contratto. Se ci sono progetti, allora si dice, si indica la durata del progetto. È ovvio che se non ci sono progetti, ma solamente servizi continuativi, si mette un'unica riga con durata del contratto. Come vedete, ripeto, sono tutte informazioni presenti sulla documentazione contrattuale, se non le ultime che poi andiamo a vedere. Obiettivi principali, anche gli obiettivi principali sono indicati all'interno sia del piano dei fabbisogni, scritto dall'amministrazione, che nel piano operativo. In questo caso, i tre obiettivi principali sono esattamente quelli, se andiamo a vedere definizione di una strategia di trasformazione digitale, identificare i servizi che necessitano di reingegnerizzazione, identificare i nuovi servizi che l'amministrazione intende erogare, sono quelli esattamente descritti all'interno del piano operativo, nella quale si chiede di iscrivere una strategia di trasformazione digitale e quella di costruire la mappa dei servizi. Quindi, come vedete, gli obiettivi principali sono riportati praticamente sempre all'interno di questo documento. Caratteristiche economiche e di potenziale ritorno. Ecco, qui praticamente lasciamo all'amministrazione la fantasia di scrivere quello che vuole, nel senso che è ovvio che per una pubblica amministrazione non c'è un ritorno dell'investimento, non è un'azienda privata per cui è un ROI. Infatti, quello che è stato scritto in questo caso specifico, l'iniziativa in oggetto non si presta a un'analisi economico del ritorno dell'investimento, in quanto definisce esclusivamente la strategia. Sarà possibile valutare un ritorno dell'investimento a seguito dell'implementazione della strategia stessa rispetto ai costi futuri ipotizzati. Se io sto cercando di ottenere attraverso questo contratto una strategia di trasformazione digitale che comporterà, ad esempio con il passaggio al cloud, un contenimento dei costi, ovviamente avrò un ritorno economico dell'iniziativa. In altri casi non ci sarà un ritorno economico, probabilmente, ma ci sarà un ritorno in termini di nuovi servizi erogati. Quindi, attenzione, questo paragrafo può far pensare erroneamente che si tratta semplicemente di caratteristiche economiche, di potenziale ritorno economico, ma può avere anche, praticamente, dei ritorni in termini di benefici non quantitativi. E qui ancora andiamo, praticamente, per il team di lavoro, praticamente, amministrazione, RUP, DEC, commissione di collaudo, il gruppo di monitoraggio. Ecco, qui va inserito, praticamente, chi sono le risorse che materialmente svolgeranno le attività di monitoraggio e poi, praticamente, il fornitore. Come vedete, praticamente, queste sono tutte informazioni presenti sui documenti contrattuali. E qui cominciamo, invece, ad entrare in quello che è proprio il lavoro del monitore, ovvero, quali sono gli obiettivi? Cioè, passiamo dagli obiettivi generali agli obiettivi specifici, su quale poi andremo a misurare il raggiungimento dell'obiettivo stesso. Quali sono gli obiettivi per cui io faccio una strategia di trasformazione digitale? Quindi, sicuramente, io attivo un contratto su questa specifica attività perché voglio una strategia effettiva e attuabile in termini di costi e rischi rispetto al posizionamento dell'amministrazione. Cosa vuol dire questo? Voglio sapere, praticamente, attraverso il supporto consulenziale di un fornitore che pensiamo esperto di queste cose, comprendere come attualmente si pone l'amministrazione e dove vuole andare in termini di servizi erogati e di trasformazione digitale. Quindi, una strategia effettiva attuabile e, soprattutto, una definizione della mappa dei servizi che identifichi, all'interno di questa strategia, i servizi da re-ingegnerizzare perché magari non sono più, non sono praticamente cloud-readless, cioè portabili praticamente su un cloud, i servizi da dismettere, che possono essere servizi che non sono più erogati dall'amministrazione, servizi erogati in modo obsoleto, e una priorizzazione di questi classici interventi. Quindi, questi sono obiettivi, diciamo, abbastanza standard all'interno di una strategia di crescita digitale. Quindi, per ognuno di questi obiettivi andiamo a costruire un indicatore. Cosa mi dà, praticamente, una strategia effettiva e attuabile? Bene, una strategia è effettiva e attuabile quando? Quando sicuramente mi permetterà, intanto, di essere misurabile. Cioè, non avrò soltanto un pezzo di carta che prenderò e metterò in un cassetto, ma sarà una strategia che verrà data, praticamente, a un secondo fornitore per la sua implementazione. Quindi, tabello obiettivo 1. Qual è il primo obiettivo? L'obiettivo, praticamente, sarà quello di avere una strategia effettiva e attuabile, e adesso andiamo a vedere come verrà misurata. Come viene definito un obiettivo? Bene, un obiettivo e un indicatore, praticamente, adesso vedremo, hanno una struttura che è chiaramente identificata all'interno del documento che ha citato prima la mia collega, cioè, obiettivi e indicatori di monitoraggio, dove vi danno una tabella generica da compilare e che deve essere inserita all'interno del documento di scritto. Quindi, questa è la classica tabella obiettivo. Codifica e denominazione dell'obiettivo, strategia di trasformazione digitale, è a scelta, possiamo tranquillamente mettere quello che vogliamo, descrizione dell'obiettivo, quello che abbiamo visto prima, definizione di una strategia effettiva attuabili, in termini di costi e rischi, i riferimenti dell'obiettivo rispetto agli obiettivi del piano triennale, ora, una strategia di trasformazione digitale, ovviamente, è correlata agli obiettivi del piano triennale, in termini di migliorare la capacità di generare e di erogare servizi digitali, quindi l'obiettivo 1.1, l'obiettivo 4.2, l'obiettivo 6.2. Ovviamente, in altri casi, ci saranno altri obiettivi. La dimensione economica dell'obiettivo, ecco, questa praticamente, rispetto al totale del contratto, l'attività di definire la strategia di trasformazione digitale, quanto cuba sul totale? In questo caso abbiamo, cioè 3.060.000, mi sembra, su un totale di 5 milioni. tempi stimati per il conseguimento del mio obiettivo. Ecco, anche qui c'è sempre un misunderstanding sottofondo. È ovvio che il deliverable sarà dato alla fine del contratto, ma quando è che io potrò misurare se io ho raggiunto il mio obiettivo? Perché, ripeto, l'obiettivo del contratto è avere il deliverable, l'obiettivo dell'amministrazione su quel contratto è avere una strategia effettiva. Quindi, la verifica del beneficio avrà, ad esempio, ulteriori 36 mesi. Il tempo di andare a verificare se l'implementazione di quella strategia è reale oppure no, è effettiva oppure no. Quindi, incidenza dell'obiettivo, in questo caso, 3.760.000 su 5 milioni, sono il 75,20% del totale dell'iniziativa contrattuale. Quindi, stabiliamo praticamente un obiettivo e andiamo a definire quelli che possono essere degli indicatori per misurare il raggiungimento di questo obiettivo, che ricordo non è il deliverable. Il deliverable è semplicemente la prima parte del beneficio che otterrà l'amministrazione. L'amministrazione otterrà un beneficio da questa iniziativa contrattuale esclusivamente se quel documento di strategia poi sarà effettivo e quindi applicabile. Quindi, andiamo a verificare, praticamente, qual è il nostro indicatore di monitoraggio. Attuazione completa della strategia. Questo è il beneficio atteso. E come andiamo a misurare? Ad esempio, praticamente, l'indicatore misura l'effettiva attuazione della strategia nei 12 mesi successivi all'approvazione del documento da parte dell'amministrazione. Quindi, ad esempio, ho fatto una strategia di migrazione al cloud, questa migrazione prevede un piano operativo che mi dice che io riesco a migrare, praticamente, un certo numero di sistemi entro un anno? Bene. Vado a misurare quanti saranno i sistemi migrati in un anno. Quindi, se raggiungo il target che mi sono fissato all'interno della strategia. Così vado a misurare se quella è una strategia effettiva. Poi ci possono essere sempre situazioni, ritardi o altro, ma quelli si gestiscono. Quindi, praticamente, un indicatore di monitoraggio è semplicemente una misurazione del raggiungimento del beneficio che l'amministrazione si aspetta dall'obiettivo del contratto. Questo è in termini, diciamo, molto semplici. E quindi, quella per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo, in questo caso, è andare a misurare quanti di questi sistemi riesco a migrare all'interno, praticamente, del totale. E, ovviamente, la migrazione cloud, in questo caso, era il 100%. Un secondo obiettivo è attuazione completa della strategia, anche qui. Costo complessivo del nuovo modello cloud. Se io sono andato sul cloud, perché mi aspetto, e la strategia stessa me lo dice, un abbattimento dei costi del 10%, io devo andare a verificare se lo raggiungo oppure no. Quindi, che cosa succede? Andiamo a misurare l'abbattimento dei costi dopo, praticamente, 36 mesi dall'approvazione della strategia. Quindi, al termine di un periodo, diciamo così, abbastanza lungo di verifica. Quindi, in 36 mesi, ho raggiunto il target dell'abbattimento dei costi del 10%? Sì, no. Ripeto, l'indicatore di monitoraggio non è un indicatore che ci dice se l'amministrazione è buona o cattiva. O, praticamente, ah, ho fallito chissà che cosa. No, è semplicemente qualcosa che serve all'amministrazione per comprendere se quell'investimento che ha fatto ha portato i frutti sperati oppure no. Quindi, praticamente, questo è un esempio di indicatore di risultato. Cioè, ho raggiunto, realmente, il risultato che mi ero proposto per quel singolo contratto. Per quanto riguarda, invece, l'obiettivo 2, strategia di trasformazione digitale, la mappa dei servizi, passiamo, praticamente, dalla migrazione dei sistemi in cloud ad andare a verificare, ad esempio, il numero di nuovi servizi erogati, praticamente, all'interno della strategia. Quindi, la strategia stabiliva che l'amministrazione avrebbe dovuto implementare X nuovi servizi, avrebbe dovuto re-ingegnerizzare Y nuovi servizi, avrebbe dovuto eliminare ulteriori Z servizi. Bene, andiamo a misurare, anche in questo caso, se questo che era scritto nella strategia è accaduto realmente oppure no. E quindi, anche qui, indicatori di monitoraggio che vanno a misurare il numero di servizi re-ingegnerizzati rispetto al totale da re-ingegnerizzare e così via. Quindi, come potete vedere, tranquillamente, non sono indicatori relativi a, semplicemente, un deliverable del fornitore. Non sono indicatori relativi alla capacità del fornitore di raggiungere i suoi obiettivi di contratto, ma vanno a misurare l'obiettivo dell'amministrazione, in termini di digitalizzazione, in questo caso specifico. Poi, tanto ve li lascio, quindi vedrete, questi sono esempi che si possono applicare in qualsiasi contesto. Quando si tratta, praticamente, di una strategia, ad esempio un piano triennale, perché è un altro dei servizi previsti per la digital transformation, c'è la possibilità di costruire il piano strategico dell'amministrazione e così via. Quindi, sono indicatori che possono essere applicati molto semplicemente a qualsiasi tipo di contratto relativo a una digital transformation. Ora, per quanto riguarda, invece, gli indicatori di governance presenti all'interno delle gare CONSIP legate al piano triennale, anche questi possono essere utilizzati, praticamente, come indicatori di monitoraggio e come obiettivi, però attenzione a come si usano. Perché? È ovvio che la riduzione percentuale della spesa per l'erogazione del servizio X è complicatissima. Perché vuol dire che l'amministrazione ha un controllo talmente granulare del proprio IT che conosce il costo del singolo servizio. E allo stato attuale non conosco l'amministrazione centrale che questa attività la sappia fare. Riduzione percentuale dei tempi di erogazione del servizio. Anche questa è un'attività che necessita di una, come prerequisito, la conoscenza di tutti i tempi di erogazione di singoli servizi. Anche questa è una conoscenza che pochissime amministrazioni hanno. Integrazione con basi dati di interesse nazionale. Non è un sì-no. Sì, l'ho fatto o no, non l'ho fatto. È ho raggiunto un obiettivo o non ho raggiunto un obiettivo. Anche su questo fate bene attenzione. Quindi, alla domanda, si possono applicare questi indicatori? Sì, si possono applicare, purché non siano ridotti, come spesso capita purtroppo, a un sì-no. Fatto o non fatto. Perché quello non porta all'amministrazione nessun valore aggiunto. E soprattutto non dà nessuna capacità all'agide di valutare, ad esempio, se l'obiettivo di quello singolo contratto è stato raggiunto oppure no. Quindi, ripeto, vanno bene, possono essere utilizzati, purché siano utilizzati come sono scritti. Vi faccio un ultimo esempio per quanto riguarda gli indicatori specifici di digitalizzazione. Miglioramento dei servizi digitalizzati. Il numero di servizi al cittadino e imprese ha digitalizzati sul numero di servizi che richiedono interazioni cittadino e imprese. Anche qui, questi sono indicatori che sono abbastanza complicati da gestire, perché presuppongono un'analisi non solo dell'IT, ma proprio dei servizi. Quindi, ripeto, possono essere applicati? Sì. Cos'è che non possono essere applicati come obiettivi e indicatori di monitoraggio? I KPI o, praticamente, i livelli di servizio del fornitore. Vi faccio un esempio. L'ultima parte della scheda di screening sono, praticamente, l'elenco degli SLA e dei KPI applicabili. Quindi, in questo caso, abbiamo ripreso sempre dalla gara di digital transformation, l'elenco dei livelli di servizio applicabili, sono stati riportati. Fate ben attenzione, la scheda di screening prevede non soltanto la scritta dei singoli KPI applicabili, ma anche delle soglie e delle modalità di calcolo. Ovviamente, a tutto questo si può tranquillamente bypassare, praticamente, o allegando l'allegato al contratto che descrive i livelli di servizio, oppure, molto più semplicemente, inserendo, praticamente, le informazioni dove presenti. In questo caso, ad esempio, basta inserire, praticamente, l'allegato al contratto quadro, oppure fare il riferimento al contratto quadro. Essendo un contratto quadro pubblico, chiunque può accedere tranquillamente a questi dati. Quindi, ripeto, fate ben attenzione, gli SLA e i KPI contrattuali non sono obiettivi del contratto. Possono essere considerati obiettivi solamente in una forma diversa, cioè il monitoraggio non va a misurare quanto è bravo il fornitore a fare le proprie attività. Questo lo fa un pezzo, cioè l'analisi della qualità generale, cioè l'analisi dei livelli di servizio. Il monitoraggio va a misurare l'obiettivo raggiunto da parte dell'amministrazione e, soprattutto, va a misurare il beneficio che questa ha ottenuto da quell'iniziativa contrattuale. In termini, diciamo così, diretti, se quell'investimento porta realmente qualcosa all'amministrazione, un valore aggiunto, oppure sono soldi sprecati. Quindi andare a misurare quanto è stato bravo il fornitore a presentare il deliverable nei tempi previsti, Sì, ripeto, fa parte della qualità generale, ma non è un obiettivo del contratto, è un obiettivo del governo di quel contratto. Quindi va misurato, va calcolato, va messo sotto controllo, ma non è l'obiettivo che l'amministrazione si spera di ottenere. Inoltre, fate ben attenzione, quando eventualmente utilizzate come indicatore di monitoraggio i livelli di servizio contrattuali, ad esempio, un livello, cioè, diciamo, un KPI che può essere utilizzato è, ad esempio, quello della governance generale o della qualità generale. Cioè, io voglio che i livelli di servizio previsti da contratto siano alla soglia X, io mi aspetto che siano alla soglia X più tot. Ecco, questo, ad esempio, va a misurare la qualità generale del contratto. La qualità generale è al di sopra di quella prevista contrattualmente. Ma tutto questo non potrà mai essere inferiore, perché, ad esempio, noi abbiamo notato in alcuni casi, alcune amministrazioni che hanno definito una qualità generale al di sotto, praticamente, di quella che uno ci si aspetta da un contratto. Cioè, se io definisco come obiettivo, che ripeto, non è un obiettivo contrattuale, ma comunque definisco un obiettivo di governance, che tutti i livelli di servizio siano praticamente in soglia, non posso definire come valore atteso che soltanto il 70% dei KPI o degli SLA siano in soglia. Non avrebbe senso. Cioè, gli SLA e i KPI sono definiti proprio perché mi aspetto quella qualità minima. Quindi non posso dare una soglia inferiore. Posso dare una soglia superiore, eventualmente. Però, ripeto, questo non è un obiettivo del contratto. Non è un obiettivo come lo stiamo definendo nel monitoraggio. È un controllo, è una qualità attesa, è una verifica della qualità attesa. Ma non è un obiettivo. L'obiettivo è il ritorno che l'amministrazione ha da quell'iniziativa contrattuale, il suo beneficio. E quindi vado a misurare se quello particolare obiettivo, con quel beneficio, verrà prima o poi raggiunto dall'amministrazione. Facciamo un altro esempio. Anche qui praticamente andiamo sullo sviluppo applicativo. Quindi stiamo vedendo, sempre per le PA centrali, un atto esecutivo, un affidamento diretto, all'8.1 della gara sui servizi applicativi in ottica cloud e i servizi di PMO. Anche qui, come vedete, la documentazione da analizzare è sempre la stessa. La documentazione contrattuale CONSIP, la documentazione contrattuale, cioè l'atto esecutivo dell'amministrazione, gli indicatori di governance che l'amministrazione stessa ha stabilito, il piano dei fabbisogni e il piano operativo. Allora, in questo caso, anche qui, sulla prima parte vado abbastanza veloce perché, ripeto, sono informazioni che abbiamo già detto come trovarle e dove. In questo caso abbiamo un contratto che, a differenza del precedente, ha un contratto base di 12 milioni, praticamente prevede l'opzione del quinto d'obbligo per 2 milioni e 400, quindi un totale di 14 milioni. Quindi, in generale, quando si intende importo complessivo, si intende proprio questo, contratto base, eventuali opzioni applicabili, sesto quinto, settimo quinto, eccetera, e il totale, praticamente, del contratto. Data di stipula e durata. Anche qui, praticamente, finalità dell'iniziativa, che è sempre presente sia sul piano dei fabbisogni che sul piano operativo, va ad indicare non soltanto la finalità dell'iniziativa, ma anche i servizi che io intendo attivare all'interno di quell'iniziativa. In questo caso specifico, c'era l'attivazione dei servizi di sviluppo software, ex novo, il servizio di migrazione al cloud, dell'applicazione esistente, la manutenzione evolutiva, la manutenzione, è chiamato così il servizio, ma si tratta di manutenzione correttiva e adeguativa del software, e servizi di supporto specialistico. Quindi, essenzialmente, l'amministrazione sta comprando servizi di sviluppo software e manutenzione, praticamente, del proprio parco applicativo, con i servizi di supporto specialistico, di consulenza specialistica. Qual è l'obiettivo di questo contratto? Ecco, l'obiettivo di questo contratto è proprio la re-ingegnerizzazione delle applicazioni, l'introduzione dei nuovi servizi, quindi l'introduzione, essenzialmente, di nuovo sviluppo software, e il supporto, praticamente, specializzato. Quindi, tornando un attimo al contratto che abbiamo visto prima, prima abbiamo fatto la strategia e abbiamo fatto il piano. Questo è il contratto che prende in pasto quella strategia e quel piano e lo va a applicare. Quindi, paradossalmente, qui abbiamo due monitoraggi. Il monitoraggio del contratto precedente, che va a misurare attraverso questo contratto il raggiungimento degli obiettivi del contratto precedente, e vado a misurare gli obiettivi di questo contratto. Qui, l'iniziativa, come prima, non si presta ad un'analisi economica. Le iniziative contrattuali prevedono la re-ingegnerizzazione dei servizi esistenti, e quindi, quale sarà il ritorno per l'amministrazione? La capacità di poter gestire, praticamente, i propri riempimenti amministrativi, con una riduzione, ad esempio, dei tempi da parte del personale e dell'amministrazione, oppure una riduzione dei tempi per cittadini e imprese. Anche qui, struttura dell'amministrazione, andiamo agli obiettivi contrattuali. Gli obiettivi contrattuali sono, in questo caso, soltanto quattro. re-ingegnerizzazione delle applicazioni, con chiaro focus sui requisiti di privacy e sicurezza by default by design, accessibilità e user experience, l'introduzione di nuovi servizi, rispettando, ovviamente, tutte le regole di implementazione dei nuovi servizi, la manutenzione del parco applicativa, e un supporto specialistico finalizzato alla semplificazione degli adempimenti amministrativi. Quindi, essenzialmente, prendo la strategia di prima, la vado a implementare attraverso questo contratto. Un obiettivo primo, praticamente, qual è? La re-ingegnerizzazione del parco applicativo esistente non cloud readiness, cioè non pronto per la migrazione. Quindi, questo è il mio obiettivo, qual è la sua finalità? La sua finalità è quella, praticamente, di prendere il parco applicativo esistente, che ho identificato come non pronto per il cloud, e re-ingegnerizzarlo. Quindi, quali saranno i riferimenti al piano triennale? Ovviamente, sono quelli di prima. La dimensione economica del servizio, questa è quanto io ho stabilito per il contratto per fare questa attività, e qui l'impatto sul contratto base. Quali saranno gli indicatori di monitoraggio? Anche qui, praticamente, il numero delle applicazioni re-ingegnerizzate sul totale da re-ingegnerizzare. E quindi, vado a misurare, praticamente, qui c'è un 90% al termine del contratto, perché dopo è scontato che potrei aver modifiche all'interno di questi 36 mesi di contratto, per cui, ad esempio, potrei dover spostare il budget e tutto quanto, però mi do come, praticamente, come assoluto, diciamo, valore atteso, almeno al 90% del totale. Le eccezioni non sono considerate applicazioni identificate come da dismettere. Ripeto, sto dando, praticamente, un indicatore che va a misurare se, realmente, al termine del contratto avrò quello che mi spetto, cioè, praticamente, la re-ingegnerizzazione di questa applicazione. Il secondo, praticamente, va a misurare, praticamente, quanto ho da dismettere sul totale. Il secondo obiettivo, qual è? L'introduzione dei nuovi servizi. Anche qui, vado a misurare se ho fatto i nuovi servizi o no, come avevo previsto in quella mappa. Gli indicatori, come vedete, sono quasi sempre, dal punto di vista matematico, di misurazione degli stessi. Si va, semplicemente, a, diciamo, customizzarli sul singolo caso specifico. Anche qua, praticamente, e qui, soprattutto, attenzione, vi ricordo che c'è un obbligo specifico del CAD che prevede che si faccia la customer satisfaction sui servizi dell'amministrazione. Quindi, come vedete, questo è un altro classico indicatore di monitoraggio. Anche qui, come prima, si va a misurare se serve, praticamente, gli indicatori di digitalizzazione, valgono le stesse cose che ci siamo detti prima, e si vanno a inserire, anche qui, gli SLA. Mettendo, ad esempio, allegando direttamente l'allegato, o, in questo caso, l'allegato 5, del contratto quadro. Ok, adesso io ho finito. Se ci sono domande, rispondiamo alle domande che abbiamo detto prima. Qual era, scusa, Antonella, quella che c'era da rispondere? Allora, ne rimane una. L'ultima domanda che è stata digitata poco prima della pausa. Giovanni Enrico Nobili ci dice Noto che sul sito Agid vi sono un totale 26 amministrazioni che hanno definito un responsabile per il monitoraggio, tra le quali solo un comune e un numero di 5 contratti sottoposti a monitoraggio per l'annualità 2022. Non riesco quindi a comprendere che cosa comporti una selezione così stretta. Mi manca qualche pezzo. Pensavo che fossero molti di più i contratti da sottoporre a screening. Allora, separiamo le due domande. Allora, allo stato attuale soltanto 26 amministrazioni hanno definito un responsabile del monitoraggio. È corretto? L'Agid sta intervenendo attraverso la formazione e contattando, ad esempio, creando eventi per regioni e comuni proprio per spingere le amministrazioni a nominare il responsabile del monitoraggio. Non si vuole arrivare ad applicare l'articolo 18bis, cioè quello praticamente di mettere in mora le amministrazioni, ovviamente. Quindi si sta facendo queste attività apposta proprio per informare le amministrazioni che sussiste questo obbligo. Giusto per fare un paragone, la normativa sull'RTD è uscita nel 2018, siamo arrivati a regime praticamente ad avere la nomina di tutti gli RTD soltanto nel 2021. Quindi, insomma, diciamo che ci vuole un po' di tempo per fare entrare questa consapevolezza nelle amministrazioni. Infatti, per questo motivo, ripeto, si stanno facendo questi incontri proprio per stimolare le amministrazioni a fare la nomina del responsabile del monitoraggio. Vorrei sapere se l'amministrazione del dottor Nobili ha nominato il responsabile del monitoraggio, quindi se loro si sono già adeguate oppure no. Poi, è un numero di cinque contratti sotto... Allora, no, attenzione, anche qui bisogna separare le cose. L'Agid vigila sul rispetto della circolare facendo un'analisi a campione. L'analisi a campione quest'anno prevedeva i seguenti criteri, ovvero praticamente almeno due amministrazioni locali, in questo caso regioni, e praticamente due pubbliche amministrazioni centrali e un'amministrazione centrale che gestisce il contratto tramite Inaus. Questi erano i criteri identificati per quest'anno e il massimo di cinque che trova sono praticamente le possibilità dell'ufficio in questo momento di gestire queste verifiche. È ovvio che, con il potenziamento che sta avendo l'Agid, anche attraverso il PNRR e tutto quanto, si arriverà ad ampliare le verifiche, però per adesso cinque sono semplicemente i contratti che sono stati identificati all'interno del campione per fare le verifiche del 2022. Ma ciò non toglie che, ad esempio, solo Ims ha 24 contratti sottoposti a monitoraggio, Ina è il credo che sia intorno a 17, e si possono trovare direttamente sul sito delle singole amministrazioni, perché l'obbligo di pubblicazione dei contratti da sottoporre a monitoraggio non ce l'ha l'Agid, e non potrebbe averla, ce l'ha la singola amministrazione che ha l'obbligo di pubblicare la lista dei contratti sottoposti a monitoraggio all'interno dell'amministrazione trasparente. Vi invito, ad esempio, ad andare sul sito Ims, Ina, il Ministero dell'Istruzione e tutto quanto, e andare a verificare se nel patto previsto dalla circolare loro hanno pubblicato praticamente la lista dei contratti sottoposti a monitoraggio. Quindi, ripeto, non li troverà mai sul sito Agid, perché non è quello il posto deputato alla loro pubblicazione, ma sul sito della singola amministrazione. Spero di aver risposto alla domanda, poi se vuole potrà... sono obbligo eventualmente di rieplicare, hanno in realtà già scritto grazie per la risposta. Sì, sì. Finissimo. Ah, ok, perfetto. Forse sono arrivate le domande durante la tua interlocuzione. Quindi, Luca Iannelli ci chiede, un contratto SPC Lotto 4 Evolutive Parco, applicativo di 2,5, immagino milioni di euro. Rientra in questo... Ok. Milioni, 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 sì, sì. Allora, qui va valutato, allora, l'otto 4 SPC mi sembra che è quello sulla gestione portali, eccetera. Allora, quello va valutato, che cosa è stato fatto praticamente all'interno di quel contratto. Allora, mentre per i nuovi contratti, per le cosiddette gare strategiche, cioè quelle che rientrano all'interno del piano triennale, è facile stabilire se sono o no praticamente strategiche, e quindi ai sensi del punto E della circolare, del paragrafo 2.2, comma 2 letterali della circolare, è un conto. Per quanto riguarda invece i contratti SPC che erano stati prorogati praticamente, ecco, lì va valuta all'amministrazione che cosa ha fatto. Se ha fatto una semplice gestione praticamente del parco applicativo, allora no, essendo sotto soglie, eccetera. Se invece ha fatto, ad esempio, un nuovo portale con nuovi servizi e tutto quanto, valuta loro, valutino loro se l'applicabilità c'è oppure no. Ma ripeto, con i contratti SPC va valutato che cosa è stato fatto e cosa no. Poi andiamo avanti. Andiamo avanti. Roberto Di Leo ci chiede, oltre al contenimento dei costi, potrebbe essere inserito il ritorno su spese di personale, magari ridotto e limitato allo sportello fisico? Certo, anche questo, allora se prende il nostro documento, quello sugli indicatori di monitoraggio, troverà esattamente questo tipo di indicatore. Cioè, praticamente, va a misurare, praticamente, la riduzione delle spese dei sportelli fisici, praticamente, rispetto, praticamente, al servizio digitale. È un indicatore, ripeto, molto complesso da gestire, perché nel costo, praticamente, delle risorse, molto spesso, cioè, incidono varie, diciamo, casistiche e tutto quanto. Quindi è un indicatore molto complesso. Però, sì, sicuramente è un indicatore che si può applicare, anzi, lì c'è un ritorno quantitativo, quindi economico, e si può anche calcolare. Va valutato, ripeto, se è fattibile dal punto di vista, diciamo così, operativo, perché, ripeto, il costo del personale ha tanti aspetti che possono non dipendere dall'attività che svolge il singolo dipendente. Quindi, insomma, bisogna stare attenti. Però, sicuramente, se un'amministrazione è matura e ha le conoscenze complete, praticamente, dei costi e tutto quanto, questo lo può fare. Allora, intanto cominciamo a dire, perché stanno comparendo sempre più domande, se non riusciamo a rispondere a tutte, troverete le risposte in PDF sui 20 PA, o, eventualmente, risponderemo nel nostro terzo webinar. Giorgio Murru ci chiede. Indicatore di risultato, può essere inteso come KPI del servizio contratto? Allora, no, nel senso che è un indicatore di risultato, allora, come dicevo prima, i KPI o gli SLA possono essere utilizzati come indicatore della qualità generale, quindi di governance di un contratto, ma difficilmente sono indicatori del raggiungimento dell'obiettivo, ripeto, lato amministrazione. Sicuramente, l'amministrazione ha un obiettivo fondamentale su tutti i contratti, che è quello di governare il contratto all'interno della qualità progettata. Quindi, sicuramente, può essere utilizzato, ma non è quello finalizzato a comprendere se l'amministrazione ha raggiunto o no l'obiettivo che si è prefissato. Quindi, ripeto, si possono utilizzare in quest'ottica per andare a misurare la governance, ma non per andare a misurare l'obiettivo raggiunto. Elisabetta Tacci ci chiede ovviamente i contratti da sottoporre a monitoraggio devono essere attivi, vero? Sì, allora, dal punto di vista pratico, la circolare si applica a partire dal 2021, quindi, in teoria, si applica a tutti i contratti che erano attivi alla data del 2021. È ovvio che se la struttura di monitoraggio parte adesso, se l'amministrazione lo sta iniziando adesso a farlo, possiamo considerare soltanto i contratti attivi alla data di quando c'è la nomina del responsabile del monitoraggio e quando viene fatta l'invio della lista dei contratti. Poi, ripeto, ci sono situazioni molto particolari, ho un contratto che mi scade fra tre mesi, lo devo porre sotto monitoraggio, ripeto, si fa la lista dei contratti a sottoporre nel monitoraggio, si invia ad Agid con la notazione, guardate, c'è questo contratto che facciamo, e poi si discute, ripeto, non è un obbligo e tutto quanto, c'è comunque un'interlocuzione. Ripeto, l'Agid è a servizio e a supporto dell'amministrazione, quindi non è un controllore, cioè non è un poliziotto, vuole semplicemente aiutare le amministrazioni a creare praticamente questo servizio di controllo, di governance, di monitoraggio dei contratti, in un modo, diciamo, standard. Non fa da poliziotto, quindi, ripeto, va censito sicuramente nella lista dei contratti, se è attivo, ovviamente, se non è attivo. Cioè, adesso praticamente si è chiusa la presentazione delle liste al 30 settembre, la nuova lista va inviata entro il 30 marzo del 2023, quindi saranno tutti i contratti attivi alla data del 30 marzo del 2023. Ok, allora, Roberto Leonetti ci chiede come si deve comportare un'amministrazione nel caso di contratti secretati? Allora, su questo, praticamente, come si suol dire, ci iscrivi, ci iscriva e ne parliamo. I contratti secretati sono, diciamo, un capitolo a parte, quindi la pregherei di prendere contatto con i responsabili del servizio, con il dirigente e poi se ne parliamo, perché c'è tutto un altro percorso. Roberto Barbiera ci chiede i contratti stipulati su SQ servizi applicativi in ottica cloud e PMO di 960K, va sotto monitoraggio specifico l'8.5 PAL? Allora, in realtà, anche qua, ripeto, vale quello che abbiamo detto prima. Mentre per la strategia cloud è chiaro che rientra perfettamente nel punto E, qui dipende che cosa state facendo, perché servizi applicativi vuol dire sviluppo applicativo. Se fate semplicemente la manutenzione e lo sviluppo dei vostri sistemi e non c'è praticamente la progettazione di nuovi servizi, diciamo, dal punto di vista che possano impattare enormemente sugli utenti interni o esterni, no, perché siete sotto soglia. Scatta praticamente la soglia, o meglio, scatta praticamente l'impatto alto sull'amministrazione, solo se c'è realmente questo impatto. Se state facendo sviluppo e manutenzione del vostro sistema informativo, non ci sono servizi innovativi, ad esempio non state cominciando a erogare servizi che prima non erano previsti, e tutto quanto no, non c'è bisogno, perché siete sotto soglia e non c'è l'impatto enorme. Diversa la cosa, se c'è praticamente un nuovo modo di erogare i servizi o altro, però ripeto, dipende dal contratto specifico. In questo caso, letta così, direi di no. Non vorrei che fosse presa, ok, allora è così. No, dipende da cosa c'è dentro. L'analisi del contratto è la parte principale e va fatta dal responsabile del monitoraggio, che deve, leggendo, comprendere cosa c'è e cosa non c'è. Ne abbiamo un'altra, dovrebbe essere l'ultima, mentre si comincia a salutare. Allora, Luca Iannelli ci chiede una cosa forse detta nel precedente webinar, ma di cui non ricorda la risposta. Chi valuta se un contratto va sottoposto a monitoraggio data la strategicità, il RUP o l'RTD dell'amministrazione? Allora, l'RTD dell'amministrazione, infatti, noi poniamo il responsabile del monitoraggio all'interno dell'ufficio dell'RTD, possibilmente. Questo perché? Perché chi stabilisce se un contratto è strategico per l'amministrazione può essere soltanto l'RTD. Non può essere il RUP, perché ha una visione parziale del contratto. L'RTD, invece, ha una visione strategica su tutto l'organizzazione, è responsabile della transizione al digitale, quindi è lui, la persona deputata, a stabilire se è un contratto, è strategico oppure no. È ovvio che dovrà per forza interloquire con il RUP del contratto, dovrà interloquire praticamente magari con le altre direzioni, perché il contratto ha a che fare con altre attività o magari di altre direzioni o altro. Però la decisione finale spetta all'RTD. Benissimo, allora mi pare che non ci siano altre domande, se è stato molto chiaro ce lo stanno dicendo tutti e noi siamo proprio puntualissimi, 16 e 30. Allora non mi resta che ringraziare te, ringraziare l'ingegnere Maria Luisa De Santis e tutti coloro che hanno partecipato, eravate circa 240. Vi diamo appuntamento al prossimo webinar, il terzo webinar del 30 novembre, sempre 2022, sempre alle 14.30, il cui titolo è Il piano di monitoraggio di un contratto, dati, informazioni, analisi, sistemi a supporto del piano di monitoraggio, costruire il piano di monitoraggio. Quindi passiamo alla costruzione del piano di monitoraggio. Ovviamente questo webinar era registrato, quindi avrete la possibilità già nei prossimi giorni di rivedere la registrazione, così come sempre nei prossimi giorni di poter scaricare le slide che sono state utilizzate dai relatori. Altra cosa che avrete la possibilità di fare, se avrete seguito almeno 40 minuti del webinar, sarà, dopo aver compilato il questionario di gradimento, scaricare il vostro attestato di partecipazione. Grazie a tutti, ci vediamo mercoledì prossimo. Arrivederci, buona serata.